Musica Sul lago di Garda, a Gardone, nella Villa Storica Museo Di lui, il sommo poeta E in compagnia di Gabriele D'Annunzio Oggi visiteremo per voi il famosissimo Vittoriale Il Vittoriale è una fondazione Oggi aperta al pubblico Ogni anno da qui passano più di 180.000 visitatori Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dal punto più alto, dove si erge il mausoleo e dove riposa il sommo vate, concludiamo il nostro giro per il vittoriale. Grazie a tutti.